Salve, sono Medoacus e sono l'asino più forte del canal di Brenta. Vi farò scoprire i segreti dell'antica Calà del Sasso. Questa è una delle opere più fantastiche delle Alpi, è una via direttissima che collega il comune di Bastagna all'altopiano di Asiano. Vi dico subito che la Calà del Sasso ha un record mondiale e la scalinata più lunga del mondo con i suoi 4.444 scalini. Dal 1300 è stata la principale via per scambiare i prodotti dell'altopiano con la pianura. In discesa lana, formaggio, miele ed in salita farina, stoffe e oggetti utili che si producevano in pianura. Io trasportavo lunghi tronchi d'albero e dal ritorno portavo sabbia, sacchi di sale ed anche il buon vino della pianura. Di qui è passato il legname per costruire le più belle navi della serenissima Repubblica di Venezia. Questo sentiero è un vero capolavoro di antica ingegneria stradale progettato su misura per trasportare i tronchi e costruito con ampi tornanti e pendenze regolari ed ha in un lato una cunetta per trascorrere i tronchi. Questa è stata una bella idea perché i boscaioli mettevano il tronco dentro e... Tutto diventava più facile! Però c'era un pericolo, nel caso di forti piogge, il sentiero poteva diventare una trappola, un vero e proprio torrente ed ecco che la pavimentazione è stata costruita per scaricare all'esterno l'acqua. Niente è stato lasciato al caso. Per evitare arominose scivolate sui sassi è stata voluta anche la struttura a scalini, una vera e propria cremaliera. Questa via era molto trafficata, in quanto era la principale e più veloce per arrivare dall'alto piano di Asiago al porto sul fiume Brenta. Ed ecco un'altra buona idea! Le aree di sosta, come quella del capitello votivo dove si poteva riposare e scambiare quattro parole. E poi l'abbeveratoio scavato nella viva roccia che raccoglie ancora oggi l'acqua di una fresca sorgente naturale. E adesso vi dico una cosa bella, cari amici, secondo una leggenda, se due innamorati percorrono la cala del sasso, Mano nella mano si ameranno per sempre. Forza! Un, due, tre, quattro mila quattrocento e quarantadue.